Ciao a tutti, benvenuti al magazine Intervista al Pirata. Oggi siamo qui con... Antonio. Quanti anni hai e da dove arrivi? Ho quasi 29 anni e arrivo da Grottagia, la provincia di Taranto, in Puglia. Da quanti anni lavori al Bounty e che ruolo ricopri? Lavoro da circa due anni e ricopro il ruolo di orderman. Prendo le comande al tavolo, sono a contatto col pubblico, direttamente. Sei fidanzato o sei single? Assolutamente single, fidanzato no. Abbiamo saputo dai tuoi colleghi che sei un vero e proprio latti lover. Qual è il tuo segreto per sedurre una ragazza? Essere se stessi è un sguardo, un sorriso. Qual è il tuo piatto preferito a cura degli chef del Bounty? Il filetto è la mia carne preferita. Ha il sangue, sangue, sangue. Il fuoco lo deve vedere da lontano. Un tuo preso? L'affabilità, la simpatia. Un tuo difetto? Essere un po' fessacchiotto. C'è un prodotto del Bounty che in questo periodo consiglieresti maggiormente? Sì. Abbiamo dalla birra artigianale che facciamo direttamente a Torino, tergata Bounty, e del vino, sempre rosso, Bounty. San Giovese Superiore, fatto con i primi sette grappoli dell'uva, però appunto risulta avere una nota molto dolce. Qual è il periodo dell'anno che preferisci? L'estate. C'è un grande affare, musica live fuori, bellissimo. Un sacco di turismo, divertimento raddoppiato se non triplicato. Il tuo sogno nel cassetto? Non lo so, fare successo, comunque vado a lasciare un nome. Dove andresti in vacanza? Alle Gran Canaria di nuovo, troppo bello. Sole tutta la vita, mare, discoteche. A chi consiglieresti il Bounty? Sì, ma a chiunque si voglia divertire, vuole passare una serata fuori dal normale, il Bounty è il posto giusto. Offre attrazioni tutte le sere in modo diverso, per cui abbraccia chiunque, dalla famiglia al giovane, all'intellettuale, tutti. Grazie mille Antonio, grazie a voi. Saluto agli amici che ti seguono da casa. Un salutone, un bacio, ciao ragazzi.